amici homebrewers benvenuti in questo nuovo appuntamento di homebrew in pills e con il nostro wiki brew quest'oggi sono con due ospiti un vecchio amico e un ospite eccezione ciao matteo il biondo a tutti e con gianmaria ricciardi della lalemand ciao gianmaria ciao ciao grazie per l'invito grazie a te della disponibilità con gianmaria ci siamo già conosciuti bellissimo appuntamento in diretta che abbiamo fatto qualche anno fa agli inizi di homebrew in pills e con gianmaria quest'oggi volevamo un po parlare di qualche novità in ambito lieviti ovviamente non specifico della lalemand e in questo ultimo periodo abbiamo visto molti nuovi prodotti e molti nuovi lieviti e quindi la prima domanda che vorrei fare a gianmaria ecco come nasce nell'ambito di un'azienda come la lalemand ovviamente il la necessità o comunque l'interesse nel creare un nuovo prodotto c'è una richiesta nello specifico del mondo della birra artigianale quindi dei pro c'è un interesse che si percepisce da parte degli homebrewers ecco come ci si approccia alla creazione dei nuovi sì grazie per questa domanda che forse spesso effettivamente non viene approfondita ci sono molteplici ragioni sicuramente quella di essere una tra le aziende leader nella selezione nello sviluppo di di microorganismi e nello specifico di lieviti che ci porta diciamo a rispondere più possibile a quelle che sono le esigenze dei birraie sia professionisti che appassionati andando appunto a utilizzare diverse tecniche varie oggi appunto approfondiremo una delle quali di queste e per andare a diciamo offrire sul mercato uno strumento in più che serva messo una volta nelle mani dei dei birraie delle birraie a ottenere dei risultati dei risultati unici diciamo che poi all'interno di l'allemand brewing tra l'altro molti dei miei colleghi hanno tra virgolette un background simile al mio ovvero tanti eravamo birraie birraie quindi abbiamo passato tanto tanto tempo nei fermentatori e quindi c'è rimasta questa voglia un po tra virgolette no sempre di sperimentare come è comune nel nel nostro settore nel nostro ambito sì questo quindi ecco senza dilungarmi troppo nelle tecniche di di selezione è quello che spinge insomma un'azienda come la vostra un'azienda leader in questo campo a sviluppare nuovi prodotti nello specifico entriamo nel cuore dell'argomento della serata nello specifico il prodotto che insomma ci ha un po incuriosito già molto incuriosito ed ecco perché qui eh ho chiamato a in aiuto il biondo eh a a ad intervenire eh è il novalager novalager è un lievito insomma che ehm si presenta come una vera innovazione in nel campo dei lieviti a bassa fermentazione il biondo ha già avuto modo di di provarlo e quindi eh è un po più curioso di me io vorrei provarlo a breve quindi insomma eh vorremmo cercare di capire di più e insomma anche dare qualche spunto in più agli amici on brewers per poterlo provare insomma per capire come eh approcciarsi nella maniera corretta eh a questo nuovo prodotto io so già Maria che tu hai preparato per noi una una bella eh presentazione ok allora quindi eh entrando appunto nel nel vivo del della questione quindi andate a approfondire come come la domanda che mi hai fatto in apertura eh quali sono no eh le vie che spingono aziende come la Lallemand a selezionare nuovi eh microrganismi sicuramente di recente abbiamo investito negli ultimi anni molto interesse alla selezione di nuovi ibridi ehm e eh oggi vedremo appunto cosa si intende per ibridizzazione nello specifico nel mondo dei lieviti saccaromices andando poi ad analizzare nel nello specifico appunto il caso del eh nova lager appunto eh il focus di oggi è l'ibridizzazione dei lieviti però prima di entrare a parlare ehm in dettaglio in quello che è il concetto di ibridizzazione dei lieviti e iniziare a fare un po' una una panoramica un eh una un'introduzione a quello che è il concetto di ibridi effettivamente ci rendiamo conto riflettendoci che di fatto si trova si si tratta di qualcosa ehm abbastanza comune nella vita di tutti i giorni ehm e eh sempre rimanendo nel nel nostro ambito di eh del mondo birra diciamo che eh da eh da secoli insomma se non millenni in realtà l'essere umano ha per sua natura eh intrapreso questa strada per andare a selezionare nuove cultivare varietà di eh animali se non che anche di eh vegetali per ottenere delle delle migliorie eh a suo a suo favore e appunto se rimaniamo nel campo per esempio del eh del dell'industria agricola eh possiamo nominare per esempio il caso del lupolo e dell'orzo come appunto da 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 millenni l'uomo ha intrapreso questa eh selezione specifica a suo favore per andare a aumentare le rese di alcuni prodotti la resistenza a a alcuni pesticidi in tempi più moderni ma anche alcune caratteristiche specifiche eh di tipo organolettico o tecnologico di di questi prodotti quindi di fatto eh parlare di ibridizzazione dei lieviti non è nient'altro che continuare questo concetto anche se vedremo per ragioni tecniche tecnologiche un po' più complicato eh rispetto ad altri organismi viventi ma eh se traduciamo diciamo eh questa eh questa possibilità no di migliorare i nostri i nostri cari amici lieviti eh per qualche o nuove applicazioni no a a nostro favore possiamo capire come ci si possa spalancare eh una un'immensa eh serie di opportunità per quanto riguarda eh obiettivi obiettivi fino ad oggi magari difficilmente raggiungibili quindi andare a selezionare idealmente dei lieviti con particolari caratteristiche di attenuazione di flocculazione con specifiche cinetiche fermentative se non che anche andare appunto a lavorare anche proprio sul profilo aromatico eh di questi eh di questi lieviti andando a modificare alcune vie metaboliche specifiche quindi capiamo enormemente il potenziale che che abbiamo che abbiamo davanti ma ovviamente dobbiamo un attimo capire bene come 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 funziona il tutto e eh quali sono i pro e contro di queste di queste tecnologie diciamo che un primo limite naturale strutturale che ci viene dato dai saccaronicere visi e in particolare proprio quelli che eh abbiamo per millenni selezionato nel campo brassicolo è la eh loro impossibilità ormai quasi di riprodursi sessualmente ovvero avendo selezionato questi microrganismi su un substrato molto antropicizzato che è il mosto il mosto di birra fondamentalmente con cui abbiamo a che fare e dandogli da mangiare trecentosessantacinque giorni l'anno abbiamo diciamo spinto questi microrganismi a a perdere una delle caratteristiche essenziali degli organismi viventi ovvero la capacità appunto appunto di riprodursi sessualmente infatti sappiamo che i nostri eh lieviti eh prediligono quella che viene chiamata riproduzione asessuale o eh in verbo tecnico anche gemmazione che dà luogo fondamentalmente da una cellula madre a tutta una serie di potenzialmente infinite cellule figlie che eh sono nient'altro che cloni della cellula madre stessa ma per mettere in atto tecniche di ibridizzazione noi vogliamo che ci sia un rimescolamento eh genetico perché appunto vogliamo tirar fuori e creare con in particolare qualcosa qualcosa di diverso qualcosa di innovativo e quindi di fatto dobbiamo spingere in qualche modo eh il lievito ad andare incontro a riproduzione sessuale proprio per eh garantire una diversità genetica nella eh nella progene che si verrà eh quindi a creare. Abbiamo detto in in parte è difficile perché naturalmente il lievito da birra non andrebbe incontro a questo processo eh ma eh di fatto grazie appunto alla eh continua caratterizzazione dei ceppi a disposizione, dei lieviti a disposizione nonché ovviamente l'avanzamento molto importante e significativo della tecnologia grazie ad alcune accortezze in realtà eh si riescono a indurre particolari certi a eh quello che è un processo di eh sporulazione quindi poi di ricombinazione sessuale che eh porta alla possibilità di creare appunto nuovi nuovi ibridi e potenzialmente nuovi lieviti con eh diverse nuove applicazioni. andando quindi eh a tradurre questa questa breve introduzione eh nel nell'ambito dell'applicazione del Nova Lager appunto apriamo eh il capitolo e le frontiere ad un nuovo eh ceppo di Saccharomyces pastorianus eh sia una nuova eh varietà appartenente come vedremo a un nuovo gruppo eh di Saccharomyces pastorianus eh che è appunto il Nova Lager quindi entriamo nel campo delle basse fermentazioni. di fatto quando parliamo di Saccharomyces pastorianus probabilmente eh quasi tutti sapranno che eh già naturalmente si tratta di eh di un ibrido ovvero noi eh siamo stati esseri umani siamo stati eh fortunati abbastanza da ricevere spontaneamente più o meno spontaneamente poi ci sono degli studi che stanno continuando ad avanzare e ehm avanzare diverse ipotesi e diversi tesi a riguardo eh a come e dove si siano eh si sia sviluppato questo questa questa nuova specie di lievito eh ma di fatto è un avvenimento che è accaduto più o meno in natura eh spontaneamente anche se si suppone in un ambiente fortemente fortemente gestito dall'uomo quindi in un ambiente che eh eh molto probabilmente era era un bierreccio appunto. Di fatto si tratta dell'ibridizzazione quindi di due specie eh il nostro eh eh amatissimo e noto eh Saccharomyces cerevisie quindi un lievito classico lievito da alta fermentazione con un lievito eh selvatico selvaggio chiamato Saccharomyces eubaianus e eh diciamo che l'ibridizzazione quindi la fusione dei due corredi genetici di questi di questi due lieviti ha portato a quello che è stato appunto un un ibrido naturale che noi oggi conosciamo come Saccharomyces pastorianus ovvero lieviti da bassa fermentazione che avesse di fatto le caratteristiche di entrambi eh di entrambi i gruppi di entrambe le specie di partenza ehm e quindi eh predisporsi a delle applicazioni eh nuove ed innovative eh già eh già diversi secoli fa. Di fatto si tratta si tratta di eh avere la capacità eh fermentativa quindi metabolizzare i zuccheri specifici del mosto di birra tipica del Saccharomyces cerevisie e un'altra peculiarità molto importante che invece appreso dal dal gruppo parentale del Saccharomyces eubaianus è quella di una forte eh criotolleranza ovvero la capacità poi di eh lavorare e fermettare a basse a basse temperature. Senza entrare troppo in dettaglio diciamo in quello che è eh diciamo lo storico della eh della genetica di questi di questi gruppi eh di di questi di questi lieviti vediamo che di fatto eh la eh suddivisione del la biforcazione dal Saccharomyces cerevisie in quello che è diventato poi la nuova specie Saccharomyces pastorianus è avvenuta appunto circa cinquecento anni fa proprio di ultimi di ultimi giorni degli ultimi giorni sono alcuni studi che stanno appunto continuando ad indagare su quale fosse eh il 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 l'esatto luogo d'origine eh di questa questa nuova specie ma quello che ci interessa oggi a noi è capire quali sono i gruppi riconosciuti eh fino ad oggi facenti parte di questo di questi di questi lieviti. Abbiamo il gruppo uno che è il gruppo eh SARS e il gruppo due gruppo Froberg eh che presentano caratteristiche fermentative e eh fenotipiche quindi eh leggermente eh diverse tra loro ma come vediamo invece dal punto di vista genetico rappresentato da questa scala cromatica che rappresenta appunto la diversificazione genetica vediamo che nel nel col colore viola blu blu scuro si eh si eh denota una bassa diversità genetica all'interno dei diversi ceppi e varietà che sono disponibili oggi all'interno di questi di questi due gruppi. Quindi geneticamente eh nello specifico in cosa si distinguono? La prima la prima eh microscopica distinzione tra i due gruppi è che il gruppo SARS è un ehm lievito triploide ovvero ha tre coppie di eh tre paia di cromosomi eh due derivanti diciamo dal eh Saccharomyces e Obayanus quindi eh la parte la parte più eh selvatica e un ehm e una parte invece del Saccharomyces cerevisie. Il Froberg invece è eh un così chiamato tetraploide ovvero ha quattro paia di cromosomi eh due rispettivamente del Saccharomyces e Obayanus e due del Saccharomyces cerevisie. E per questa per questa caratteristica diciamo sono anche quelli che vanno più incontro alla formazione di spore ed infatti eh alcuni ceppi di questo di questo gruppo che sono stati poi utilizzati come ceppi parentali per la selezione e la ehm diciamo creazione del eh del Nova Lager nello specifico. Eh come abbiamo detto vabbè il Saccharomyces Obayanus in realtà era era un lievito selvaggio e che piano piano si è tra virgolette adattato al all'ambiente brassicolo eh perché anche se inizialmente era amalto triosio negativo e pof positivo con in realtà si è ambientato molto di più alle caratteristiche eh brassicole e quindi ha perso queste caratteristiche rendendosi molto più adatto a fermentare il mosso di birra. Scusa Gianmaria se ti interrompo eh spiega magari per eh chi di noi è meno addentro cosa significa pof positivo pof negativo. Assolutamente. Pof positivo è ehm mh l'acronimo l'acronimo pof vuol dire fenolico flavor eh in inglese quindi produttore del diciamo dello flavor fenolico eh per intenderci i lieviti pof positivi sono lieviti vice sono lieviti alcuni lieviti belga molti lieviti belga ovvero tutti quei lieviti che presentano una caratteristica aromatica fenolica ovvero ricordano eh il pepato il chiodo di carofano piuttosto che altri altri composti di questo tipo che però spesso non sono non sono desiderati in altri stili sicuramente non lo sono in basse fermentazioni eh come lager eh o similari. eh e questa in realtà eh la eh diciamo la l'adattamento la domesticamento del 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 genotipo eh derivante dal Saccharomyces e Obaianus è proprio diciamo quello che sta creando un po' di discordia e eh ulteriori ricerche per capire effettivamente dove e quando eh questo benedetto Saccharomyces e Obaianus in natura ha visto ha visto nascere la sua la sua nuova eh la sua nuova storia. fatto appunto eh iniziando a entrare un po' più nel dettaglio del del dell'albrio Nova Lager appunto andiamo a vedere quali quindi siano stati e con quali tecniche i ceppi parentali utilizzati per creare questo questo nuovo lievito dalle caratteristiche piuttosto significative. Abbiamo accennato che un primo eh lievito utilizzato è stato eh un Saccharomyces spastorianus un ceppo di Saccharomyces spastorianus del gruppo due Froberg proprio perché era in grado di più facilmente sotto determinate condizioni andare a eh eh sporulare quindi creare spore andare quindi a dividersi in una cellula eh diploide che quindi sarà quella che andrà incontro poi alla riproduzione sessuale. Facendo questo non ci siamo accontentati abbiamo anche utilizzato delle eh tecniche di evoluzione adattativa ovvero mettere questi lieviti in condizioni eh nutritive e ambientali particolari in modo da indurre eh alcune eh caratteristiche specifiche eh desiderate e in particolare quella di andare a interrompere una specifica via metabolica che viene con l'acronimo senza entrare in dettaglio chiamata SRS che è fondamentalmente la responsabile soprattutto nei lieviti a bassa fermentazione alla eccessiva produzione di eh H2S ovvero idrogeno solforato ovvero quel composto che è il responsabile di quelle note di eh uova marce no che sentiamo soprattutto ad inizio fermentazione durante appunto una fermentazione da da bassa fermentazione come eh secondo ceppo parentale invece è stato utilizzato un eh saccharomyces cerevisie eh abbastanza neutro eh anche questo selezionato per andare eh di fatto a mh ridurre la capacità eh della produzione del dell'idrogeno solforato anche in questo caso eh si è andato a mh eliminare eh uno uno specifico gene responsabile di eh della produzione di idrogeno solforato e quindi eh la combinazione di questi di queste due eh spore di eh lieviti di specie di lieviti diverse ha dato origine eh ad una nuova eh ad un nuovo lievito eh in questo caso un nuovo saccharomyces pastorianus ehm anche in questo caso tetraploide e le caratteristiche diciamo di questo eh saccharomyces pastorianus essendo essendo uniche eh sono state è stato deciso di eh classificarlo un po' come un nuovo lignaggio di eh di di questi lieviti lager eh chiamato appunto gruppo tre e eh le caratteristiche appunto eh essenziali che poi vedremo un po' più in dettaglio eh tra qualche slide sono quelle elencate in questi punti principalmente la capacità di eh essere un lievito molto pulito in termini di eh produzione di eh composti secondari e ovviamente rispettare la capacità di fermentare a basse temperature come anche ad alte ad alte temperature come vedremo quindi eh di fatto riassumendo quello che è eh il quadro genetico delle dei dei lieviti da bassa fermentazione includendo in questo caso anche il il nuovo eh lievito eh nova lager gruppo tre possiamo vedere come questo si differenzia dagli altri due perché comunque eh rimane un eh lievito tetraploide quindi simile al gruppo frauberg ma con un 75% di caratterizzazione genetica del saccharomyces cerevisi e contro un 25% di eh saccharomyces ubaianus derivato dal dal froberg quindi viste le caratteristiche diciamo genetiche andiamo a vedere poi tutto questo tradotto ehm fenotipicamente quindi eh in in termini di caratteristiche di fermentazione ed organolettiche in cosa in cosa viene viene tradotto abbiamo detto sicuramente una bassa produzione di eh di offlavor eh una un profilo organolettico di fatto unico e nuovo che si discosti anche da quello eh che possono essere mh che può essere conosciuto no dai classici lieviti da bassa fermentazione e e e altre caratteristiche come anche una forte capacità eh di interazione con alcuni composti dei luppoli quindi capacità biotrasformanti e e alcune caratteristiche che si porta diciamo eh dietro dalla eh forte eh influenza genetica eh come abbiamo visto del saccharomyces cerevisi quindi fermentazioni più rapide capacità di lavoro a temperature più alte eh tempi di maturazione che si accoggiano notevolmente per diverse ragioni che vedremo e anche un un tasso di auguro diciamo più simile a quello di una di un'alta fermentazione che è di una tradizionale bassa fermentazione ora senza entrare troppo nel dettaglio però per spiegarvi la ragione per la quale la ragione metabolica per la quale diciamo questo lievito di fatto eh non produce eh determinati composti eh aromatici eh sgraditi eh come per esempio il diacetile la natura risiede nel fatto che mentre i lieviti tradizionali da bassa fermentazione diciamo generalmente tendono a ehm autoprodursi uno eh uno degli amminoacidi essenziali per il metabolismo del saccharomyces cerevisi che è del saccharomyces pastorianus in genere ehm che è la valina ehm le icepi invece da alta fermentazione questo aminoacido essenziale tendono ad assorbirselo direttamente direttamente dal mosto e eh l'autoproduzione di valina comporta che nel saccharomyces cerevisi si ha una forte eh propensione alla eh produzione di alfa cetolattato che è una specifica molecola che non è nient'altro che è un intermediario di reazione per arrivare a questo aminoacido valina eh che eh di cui parlavamo però sappiamo pure che l'alfa cetolattato se prodotto in eccesso è quello che viene poi espulso al di fuori della cellula e poi eh nelle condizioni eh esterne alla cellula quindi di di mosto di birra in fermentazione trova le condizioni eh ottimali per essere diciamo eh trasformato in di acetile che è il composto appunto indesiderato. Il saccharomyces ehm il nuovo saccharomyces pastorianus illalbrio novalager di fatto si comporta più similmente a eh un'alta fermentazione in questo senso dove quindi eh predilige un assorbimento come possiamo vedere dal grafico di sinistra della valina dal mosto invece che autoprodurselo e quindi di conseguenza verrà tradotto poi in una minor produzione vedete nel grafico di destra invece come il picco di massima produzione del diacetile è più basso eh rispetto anche in realtà ad un'alta fermentazione si è si è si è rilevato e eh comunque anche nel suo picco di massima eh la quantità di diacetile prodotto è presente sotto al di sotto della soglia di percezione e quindi di fatto eh possiamo star tranquilli nella maggior parte dei casi che il diacetile eh anche senza effettuare eh pause diacetile eh specifiche e utilizzare tecniche di produzione particolari non venga eh solitamente prodotto e quindi percepito. Eh un altro composto insomma essenziale per cui è stato eh isolato e ehm selezionato questo questo nuovo ceppo è il la non produzione di idrogeno solforato altro composto tipico altro flavor tipico delle basse fermentazioni e in questo grafico vediamo che come abbiamo visto utilizzando due ceppi parentali selezionati apposta per aver per vedere castrate eh specificatamente le vie metaboliche che portano alla formazione di idrogeno solforato ehm si è visto che in comparazione con eh tradizionali lieviti lager incluso anche il nostro il nostro diamond la produzione di eh idrogeno solforato è presente inesistente anzi se andiamo a eh zoomare diciamo in questa porzione di eh di grafico eh che eh apparentemente vede le le la linea della delle basse del del nova lager e di un'alta fermentazione tradizionale come può essere il nostro nottingham praticamente ehm eh sovrapposte vediamo che in realtà mentre il eh nottingham comunque che è un lievito ad alta fermentazione un minimo di produzione di idrogeno solforato ce l'ha e il nova lager rimane completamente eh completamente piatto proprio perché sono si è fatto proprio un intervento genetico e quindi vede eh come abbiamo detto inibite e quelle specifiche vie metaboliche di fatto eh possiamo riassumere quindi le caratteristiche eh e le proprietà brassicole di questo lievito eh nei nei seguenti punti dove possiamo eh dire che grazie a queste caratteristiche ovviamente eh viene meno eh la necessità di effettuare lunghe fermentazioni eh e lunghe maturazioni soprattutto eh perché grazie alla capacità e al corredo genetico del saccharomycer cerevisiae che si porta si porta dietro ha la possibilità di lavorare a temperature anche ben più alte rispetto a un canonico lievito da bassa fermentazione quindi arrivare anche a venti gradi pur mantenendo un profilo aromatico e organolettico eh tendenzialmente neutro e e nonostante tutto appunto raggiungere comunque delle attenuazioni tipiche di lieviti e malto triosio negativi quindi dei classici lievititi a bassa fermentazione ma anche ad alta fermentazione e cosa cosa più importante eh dal nostro punto di vista appunto è la eh impossibilità di produrre eh composti eh aromatici spesso indesiderati come l'idrogeno solforato e il il e il di acetile appunto. Io penso di ecco aver concluso quello che può essere un po' l'introduzione di eh di questo lievito e e penso che ci possiamo adesso fare una tranquilla chiacchierata su eventuali dubbi e curiosità che sono rimaste sospese. Assolutamente. Bene intanto Gianmaria grazie perché io e il biondo ci siamo fatti questa lezione gratuita di sui lieviti spettacolare eh ma la metteremo a disposizione anche degli altri amici homebrewers. Ehm avevamo intenzione di farti diverse domande Gianmaria. In realtà a molte di queste hai già dato una risposta però ecco rimangono un po' i i dubbi eh tipici dell'homebrewer eh che ovviamente mh in generale parlo per me in questo caso non abbiamo competenze così specifiche sulla sulla gestione dei dei lieviti e quindi eh ovviamente adesso scendiamo un po' di livello torniamo alla al nostro homebrewing e quindi Matteo lascio a te la possibilità di fare la prima domanda a Gianmaria poi ci togliamo insieme qualche curiosità vai grazie grazie ma sì noi siamo homebrewer quindi la viviamo d'abbri per queste cose. Ehm no ecco come comunemente ci potrebbe interessare ehm capire quali sono eh belle temperature già hai parlato insomma nelle precedenti slide temperature quale potrebbe essere una temperatura ottimale di inoculo un po' che che come poter gestire la fermentazione se ci sono delle cose in particolare da dover seguire eh secondo gli aspetti insomma di chi li costruisce questi liquidi oramai eh sono e se ci sono anche dei dei particolari nutrimenti da dover introdurre per aiutare la fermentazione se sì insomma quali? Certo benissimo grazie intanto per per la domanda eh sì che a volte si dà per scontato perché noi forniamo un range di temperature però poi in questo caso specifico poi essendo così ampio ovviamente eh la 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 curiosità e i dubbi possono possono rimanere. Ehm l'idea è stata quella di riuscire a fornire un lievito che lavorasse in un intervallo di temperatura ampio ma che all'interno di questo intervallo rispettasse quelle che sono le sue sue caratteristiche aromatiche in un certo senso anche eh di prestazioni fermentative. È ovvio che eh viene da sé che quando si lavora a più basse temperature eh si tende ad avere una fermentazione più lenta quindi eh si inibisce in qualche modo anche se appunto abbiamo detto sono lieviti eh criotolleranti quindi che resistono bene alle temperature più basse la eh la loro espressione fermentativa. Quindi l'idea diciamo è eh utilizzare questo lievito al contrario a temperature più alte perché abbiamo visto che è tutto sommato il profilo aromatico non viene così tanto influenzato eh dalle dalle temperature sì qualche essere eh in più potrebbe essere prodotto ma parliamo sempre comunque eh all'interno di quello che è un profilo aromatico neutro e da bassa fermentazione. Eh quindi sicuramente se uno vuole un profilo estremamente pulito può lavorare a più bassa temperatura a discapito delle delle tempistiche ma ehm la la sfida insomma che che lanciamo è proprio quella di ehm utilizzare questo lievito eh ottimizzandone eh il suo potenziale quindi eh poterlo far lavorare a temperature più alte eh avendo diciamo il vantaggio di eh non dover avere la fobia di controllare e gestire la temperatura in un ambiente eh casalingo che può essere comunque un'innovazione da quel punto di vista per molti home brewer so che ce ne sono alcuni super tecnologicamente avanzati anche meglio di alcuni di alcuni birrifici in termini di controllo temperature e e e quant'altro eh ma sicuramente ecco poi eh per quanto riguarda per esempio vantaggi nel fermentare a temperature più elevate eh per quanto riguarda i birrifici professionisti eh pensiamo appunto anche a un minor eh dispendio energetico nel dover mantenere temperature temperature costantemente basse soprattutto quando si fanno eh molte produzioni di questo tipo e quindi eh quindi questo avrebbe poi anche il vantaggio di non solo accorciare le temperature di fermentazione ma di fatto far decadere anche quelle che possono essere delle lunghe maturazioni che è solitamente nelle basse fermentazioni non dico che sono quasi esclusivamente ma eh la gran parte del del tempo dedicata alla maturazione per riassorbimento di alcuni composti secondari che eh come ho detto nella presentazione in realtà da questo lievito non sono proprio prodotti quindi di fatto eh non dobbiamo più lasciare la birra eh per molto tempo eh in maturazione per far riassorbire appunto idrogeno solforato di acetile eh non abbiamo parlato di SO2 di acetaldeide che comunque anche in questo caso eh sono altri prodotti che vengono in un certo senso ehm tenuti molto molto sotto controllo da questo lievito. Per quanto riguarda il discorso della nutrizione diciamo vale il il vale lo stesso per qualsiasi altro tipo di eh lievito da alta o da bassa fermentazione che sia. È ovvio che soprattutto quando si lavora a basse fermentazione con tassi di inovulo un po' al limite fermentazioni eh generalmente ehm sono sufficienti se si lavora con base di malti cento per cento malto d'orzo o comunque con eh dei cereali eh con il loro contenuto proteico corretto quindi non si utilizzano eh sciroppi piuttosto che grandi quantità di zucchero eh semplice eccetera eccetera la il semplice utilizzo di eh nutrienti arricchiti di complessi vitaminici e minerali sono sufficienti in particolare zinco e il complesso delle vitamine B eh sono sufficienti per eh raggiungere gli obiettivi desiderati però poi se andiamo a a estremizzare in qualche stile in particolare ehm le eh specifiche le caratteristiche nutritive di partenza del mosto per esempio densità molto alte e con scarsità di eh di composti azotati allora in quel caso eh una maggiore nutrizione anche dal punto di vista dei complessi azotati può essere richiesta ma la maggior parte delle volte diciamo non è non è assolutamente necessarie insomma e adesso subentro io mi viene qualche curiosità in base a tue risposte Gian Maria e in relazione alla temperatura alla quale lo vogliamo far lavorare cambierà di conseguenza anche il tasso di inoculo e visto che si è parlato di un tasso di inoculo quasi da comparare a quello eh si legge insomma dalle vostri dai vostri fogli illustrativi quasi comparabile a quella delle ale piuttosto che a quella delle lager oppure eh lo dobbiamo lasciare invariato qualsiasi sia la temperatura di esercizio questa è la prima domanda sì no grazie grazie per averla riportata perché poi io come al solito parto con un'idea e finisco con un'altra perché mi mi autodistraggo parlando parlando di lieviti però sì il discorso che stavo approcciando appunto della l'ampio range di temperature oltre a quanto già detto appunto include anche una gestione diversa di quello che è il tasso di inoculo quindi a temperature più alte viene da sé che si avvicina ancora di più a quello che abbiamo detto al tasso di inoculo di un classico sacronico cerevisia quindi di un'alta fermentazione o ale mentre a più basse temperature ovviamente si riavvicina sensibilmente a quello di un bassa fermentazione anche se comunque anche a dieci dodici gradi rimane rimane meno necessita di un tasso di inoculo minore rispetto a un tradizionale lievito da bassa fermentazione ragion per la quale appunto invito comunque a sfruttare questo lievito per le caratteristiche con cui è stato selezionato quindi andare andare oltre non sfruttarlo sopra i 15 gradi mi sentirei abbastanza fiducioso nel consiglio quindi questo è il tuo consiglio qui viene un'altra domanda che mi è stata suggerita in realtà e quando ci siamo preparati a questa serata dal biondo relativamente alla floccolazione tu ci parlavi dei tempi ridotti ovviamente facendolo lavorare a determinate temperature e però poi dopo sappiamo benissimo nei lieviti a bassa che abbiamo tutto il periodo di lagarizzazione e che porta via molto tempo e in questo tipo di lievito come va gestita la fase di pulizia com'è la floccolazione di questo lievito e di conseguenza come procedere al meglio a pulire tra virgolette quindi a rendere bella limpida la nostra birra abbiamo bisogno di una lunga lagarizzazione guarda appunto la da quel punto di vista la lagarizzazione maturazione eh rimane solo strettamente vincolata a questo aspetto quindi all'aspetto della pulizia visiva più che organolettica e eh devo ammettere che in realtà ci sono state eh sia da da dai feedback ricevuti da Ombriworks che da birrai professionisti insomma commenti e feedback un po' contrastanti riguardo a la capacità floccolanti questo lievito e un altro eh proprio il giorno dopo forse che eh c'eravamo sentiti per per questa per questa chiacchierata lessi proprio un articolo di un Ombriworks americano ehm magari magari vi posso riportare il link per curiosità da da condividere con con gli altri amici eh che ha fatto una prova eh in dello stesso mostro della stessa ricetta con il nostro Diamond e con il Nova Lager e paradossalmente ha avuto dei risultati in termini di pulizia pulizia visiva mantenendo inalterate le ehm le specifiche di produzione eh molto migliore con il Nova Lager che con con il Diamond eh quindi sicuramente in quel caso ha avuto delle migliorie in termini di accorciare la le i tempi di maturazione in altri casi ho sentito che mh invece mh hanno avuto più difficoltà a far floccolare e sedimentare questo lievito ehm non per tirarmi indietro e e la e lavarci le mani sulla questione ma eh il il tema della flocculazione è eh spesso influenzato da molteplici variabili quindi andrebbe un po' analizzato e e capito caso per caso in base al gristi di malto in base alla alle caratteristiche dell'acqua alle temperature quindi alle frigorie che effettivamente riusciamo a dare quando andiamo in raffreddamento in abbattimento e eh al tasso di inovulo iniziale a quanto vigorosa è stata la fermentazione inizialmente quindi ci sono molteplici aspetti che vanno vanno considerati eh che poi scaturiscono appunto eh nel nel risultato finale al lievito di precipitare più o meno rapidamente eh oltretutto tra virgolette ancora un lievito non ha neanche un anno di vita ha pochi mesi otto mesi di vita ancora come come lievito quindi di fatto eh noi eh siamo sempre alla continua ricerca di evoluzione e eh recezione di eh continui feedback da parte del mercato eh e interna caratterizzazione dei dei ceppi che poi lanciamo sul mercato quindi sicuramente se eh nel nel prossimo futuro dovessi avere degli aggiornamenti in merito e dei dati più più concreti e siamo siamo sempre ben più lieti che condividerli. Ok dai visto che ci hai detto quasi tutto la domanda un pochettino no scomoda però quella diciamo più cattiva te la voglio fare eh abbiamo capito che questo lievito ci aiuta tantissimo dal punto di vista della fermentazione a noi sicuramente un brewer i birrai sicuramente saranno delle persone sicuramente più più preparate rispetto a noi un brewer molte volte quasi sempre insomma per un fatto di studi e quant'altro eh la domanda che mi viene da farti ehm questo nuova lager ha dei punti deboli da tenere in considerazione rispetto diciamo a un pastorianus che siamo abituati noi a utilizzare eh classicamente nelle basse fermentazioni? sì eh ti rispondo con un po' di ironia eh nel senso che eh eh che 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 è troppo buono nel senso no è che troppo facile ci perdona troppo no tra virgolette la la barriera più grande che ho visto anche ricevendo commenti da da appunto da un brewer e da da professionisti da superare è la forte storicità che ci siamo fatti no in termini di abitudine ad approcciare le birre lager fatte con i tradizionali lieviti da bassa fermentazione quindi paradossalmente eh il nostro il nostro approccio con questa tipologia di birre eh si è abituato alla nostra bevuta si è abituato a percepire alcuni dei difetti classici delle delle basse fermentazioni come facenti parte di quello stile di di quella famiglia e di quella tipologia di birre ehm chiariamo questo aspetto non voglio dire che le birre sul mercato siano difettate tutt'altro i bravi birraie le brave birraie un brewers ed un brewers eh hanno eh eh comunque la capacità di gestire queste caratteristiche diciamo abbassando quella che è la produzione eh di questi o flavors di questi composti indesiderati tenendoli a bada riuscendo a fare appunto con tecniche di maturazione riassorbire questi questi composti sotto quelle che sono le soglie di percezione no e di perceperli difetti come tali però in realtà sappiamo che appunto i nostri i nostri sensi sono comunque limitati quindi diciamo abbassiamo eh questi composti sotto le soglie di percezione ma diciamo di fatto rimangono un po' come rumore di fondo nel nel nella birra finita che eh non vengono percepite come difetto ma a volte giocano comunque un ruolo di eh antagonismo comunque sinergia con altri composti andando poi a rendere il complesso e la piacevolezza della bevuta di una bassa fermentazione così come la conosciamo oggi il nova lager di fatto non non li produce proprio questi composti quindi vede il profilo organolettico risultante dalle birre fatte con questo lievito completamente diverso e quindi quasi quasi spiazzante tant'è che a volte magari eh viene percepito come difetto la sua eh tra virgolette estrema pulizia nel specificatamente dal punto di vista del dei composti dei composti indesiderati di acetile idrogeno solforato in primis che abbiamo discusso ma ma anche altri eh quindi non so se non non so se è stato chiaro chiarissimo chiarissimo dobbiamo evitare di mandare birre a concorso fatte con il nova lager se no c'è no eh se no vendiamo anche le fialette di idrogeno solforato da inserire in un secondo tempo state attenti degustatori state attenti eh che potremmo eh diventa molto difficile anche il mestiere di degustatore di giudice nei concorsi per homebrewers beh insomma molto molto interessante Germania e l'ultima domanda te la faccio io sempre su in beccata del del biondo e c'è qualche birra eh in commercio prodotta che possiamo reperire eh da da dei birrai insomma che già usano il il nova lager allora come ho detto un lievito che in realtà è sul mercato da poco quindi molti posso dire che l'hanno utilizzato su su delle cotte eh provandolo sperimentali quindi iniziando a farsi un po' di storico ehm purtroppo al momento non mi sento di condividere chi siano perché non ho parlato direttamente con loro non ho chiesto non ho chiesto se se possa essere un'informazione divulgata è sicuramente uno che posso fare perché l'ho incontrato l'ho incontrato in questi giorni e ne abbiamo parlato più volte e lo ha divulgato stesso lui è un birrificio laziale poco conosciuto mosto italiano eh che eh ha prodotto due lotti di di birra con il nova lager e di cui è estremamente di cui è estremamente ehm contento e e probabilmente seguirà seguirà utilizzare questo questo lievito per la sua prima bassa fermentazione in produzione molto molto interessante eh indagheremo eh Matteo hai qualche domanda per concludere abbiamo no più che qualche domanda da affermazione da affermazione cioè uccideremo stili così facendo con queste impridizzazioni lo sai no questo questo è questo è eh 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 è importante perché poi quello che noi vogliamo fare è come dicevo un po' in apertura è offrire eh strumenti aggiuntivi ovviamente noi abbiamo in linea eh un altro lievito da bassa fermentazione siamo in primis amanti della della diversità no del del panorama brassicolo che che c'è a livello mondiale ed è per quello che abbiamo proprio voglia di tirar fuori nuovi ceppi che rispondano nuove esigenze eh proprio perché non si tratta di inserire un prodotto che vada a cannibalizzare alcuni esistenti ma è dare eh delle soluzioni in più eh a specifiche a specifiche condizioni quindi più che altro ecco pensare un po' fuori dalla dalla scatola come come brutalmente tradotto da dagli inglesi ma ehm è esattamente utilizzare eh quelle che possano essere eh delle nuove delle nuove soluzioni anche per eh in usare alcuni 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 stili non è assolutamente eh nulla da togliere con eh con la tradizione se non assolutamente avere anzi maggior flessibilità eh sul gestirla soprattutto per noi un brewers che insomma non abbiamo non abbiamo immediatamente attrezzature eh professionali quindi siamo più soggetti a a queste a queste situazioni poco gestibili come giustamente dice bene eh la chiacchierata è stata interessantissima siamo andati un po' oltre l'orario ma eh penso che agli amici on brewers che visioneranno il video eh starà molto piaciuta come è piaciuta a me e al biondo sicuramente quindi un grande grazie a Gian Maria eh grazie infinite io non vedo l'ora di di provarlo e lo farò più presto anche perché avendo un unitank adesso la gestione delle fermentazioni anche bassa eh sono più semplici e e quindi eh il biondo invece insomma già qualche prova l'ha fatta e vedremo insomma come come poter gestire al meglio eh questo lievito e e provare e scambiare le nostre opinioni tra di noi come facciamo di solito noi grazie ancora a Gian Maria veramente molto molto interessante grazie grazie infinite a voi è stato è stato un piacere come al solito eh a parte in qualche modo di questa di questa community è sempre sempre piacevole quindi grazie per l'invito e grazie a biondo che è appena tornato da un bel viaggio a copenhagen preparati perché insieme al berlo eh mi avete fatto venire in mente di fare una bella puntatina su questo su questa vostra gita a copenhagen e ce la racconterete dai eh ci organizziamo grazie dell'invito eh grazie davvero è sempre molto stimolante e interessante confrontarci su questi temi ci vediamo al prossimo appuntamento grazie ancora a tutti a presto ciao 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 Grazie a tutti.